bene ragazzi quattro ed eccoci tornando in questo nuovissimo video ragazzi dopo un bel po di tempo siamo tornati su crash royale noi siamo in compagnia di fra legge nella che farà da diciamo è da tocco magico perché come vedete ho 95 gemma adesso ma magicamente facendo e come vedete adesso abbiamo 1295 gemmi quindi ciò per altri 5 adesso voglio vedere siamo in arena 5 finalmente e abbiamo a disposizione due bauli magici quindi tocco magico l'ottima una parte di calabria e poi la prima la prima lui speriamo che siamo in tutto come c'è che cazzo le faccio della storia di nevo papà attacca da stagano attenzione e lo trova in arena 5 va bene le trovate l'area 5 dopo che si trova in arena 1 però e si va attenzione raccoglitori dalle al bloccato attenzione oggi cazzo mi salva un culo mini pecca lo possiamo potenziare la capanna non me ne fotte da valchia e non me ne fotte ragazzi abbiamo trovato non c'è la faccia andata in giù abbiamo trovato vereno specchio strigone scariche quindi dell'arena 5 abbiamo tutto tranne la leggendaria guarda un po abbiamo fatto questo che mi dà 10 gemme che non mi servono al culo adesso ci andremo a fare ci andremo a fare un deck un deck nuovo diciamo con quello che mi è uscito l'arena 5 tutte le carte l'arena 5 vai sfida con le carte che hai trovato con le carte che hai trovato anche andiamo a mettere dentro un po di carte e vediamo come possiamo vincere dammi qua io sono quello che sta a fianco a te che decide tu sei solo quello che gioco qualcosa mai manco la scarica manca la scarica ok abbiamo fatto il deck 4.3 io ho seriamente paura di quello che sta per succedere vediamo anche il pecca perché figlio e andiamo a cercare hai messo il deck buono no non l'hai tolto il deck abbiamo trovato uno devastante porcaccio ma l'ho tolto mini pecca non l'hai tolto è la prima parte che ho tolto non l'hai tolto non l'hai tolto non l'hai tolto non l'hai tolto no e lo specchio ci sta quindi special allora io butterei mini pecca di qua ecco mamma di là stregone e vabbè sì i cristi mattinato questo ma che vado a guardare la fanga boom di te cazzo mi servite la scarica non ho capito guarda ma non vuol dire che male a che botta al cuore la mongolfiera ok dobbiamo aspettare anche il piano dobbiamo aspettare un attimo che lui butti giù qualcosa di qua e noi possiamo dall'altra parte con il tuo mamma buono ha spiegato 5 non ti può mettere niente allora è proprio la velia si ci mette una cosa che è da fare di anzi butti giù lo giamo non la verità per questo aspetta sta a me senti special tanto molto che colpice la torre è andata già giù in special il raticato con la bomba che fa scuola del paio nel mondo con i valori ora mettiamo la vedendo qua un'altra veleno possiamo rimetterla tanto sono morti io butterei l'ignoranza qua e possiamo pure mettere un altro principe guardate quanto siamo stronzi guardate quanto siamo veramente però non mi cazzo guarda bombo di un altro bombo di un altro bombo di un altro no figlio di puttana ma non mi ha preso l'altro pezzo di merda ok mossa ampiamente sbagliata ogni tanto il figlio di puttana mi sembra torno ma come cazzo che sto in culo magari 5 e altre cose non lo batto mai torri poi scarica mamma poi vedendo pure poi vedo non troia non troia non troia non troia non brutta troia di merda vedendo funziona vedendo funziona vedendo funziona funziona si godopunca il vecchio fatto io ho che sessanta secondi restanti il mio figlio di puttana colpa ilГlo di l'unico scuola notte la loro sede che il livello di un altro re io sempre siamo in domini per carlì colpisci colpisci la colpisci perfetto la colpisci di grande ok colpito buttiamo questo di qua e la pancia non ci faccio la torre per l'amore non ci posso fare niente questa c'ha le cose improbabili un'altra verena doppia verena a caso la mongolfiera non va giù non abbiamo troppo aereo almeno ci pariamo il culo grazie e fatta un culo anche tua sorella sai con la tua sorella quante vacca da 1 a 10 sai quante vacca tua sorella va che se mi colpisci muoio figlio di puttana hai fatto un deck di merda io il mini back non l'avevo messo quanti trofei abbiamo perso 1.300 no basta abbiamo fatto la sfida hai fatto la sfida basta abbiamo fatto la sfida abbiamo trovato le carte che ci servivano nell'arena 5 adesso abbiamo tutto direi e niente spero che il video vi sia piaciuto abbiamo perso anche i trofei grazie a lui e niente no quello che sono andato e io spero che il video vi sia piaciuto come sempre mi invita a lasciare un like iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto passate dal suo canale sotto in descrizione ci vediamo al prossimo video bella ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti